Ciao, sono Samantha Poletti, cantante ed insegnante di canto. Sono diplomata in canto moderno, ma il mio amore per la musica è nato molto prima. Il primo approccio è stato istintivo perché è lì che nasce la voce. Poi ho scoperto quanta libertà di espressione possono permettere la conoscenza e la tecnica vocale. Come insegnante ho sentito voci fiorire, come cantante solista e corista ho cantato in band, formazioni acustiche, passando da generi musicali diversi tra loro ed ho prestato la mia voce in sessioni in studio di registrazione. Oltre all'insegnamento continuo la mia attività di cantante perché credo che un buon maestro debba saper insegnare come vivere al meglio anche l'esibizione sul palcoscenico. Se sei mosso dalla passione per il canto, se vuoi perfezionare o approfondire ciò che già conosci della tua voce, ti aspetto al Rock Guitar Center di Cesena. Te te... Te te... Te te... Te te te...